Rinnovata Domenico Gorga la presidenza del Consiglio di amministrazione dell'azienda partecipata Agropoli Cilento Servizi. Ringrazio il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, il presidente dell'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento, Franco Alfieri, per avermi rinnovato la fiducia confermandomi presidente del Consiglio di amministrazione della più importante azienda partecipata della nostra città, l'Agropoli Cilento Servizi. Questa la dichiarazione di Domenico Gorga, appena eletto. Colgo l'occasione per ringraziare vivamente Giancarlo Sant'Angelo e Bruno Bufano, che hanno condiviso con me in Consiglio di amministrazione, in questi anni con disponibilità, passione e tenacia, un importante lavoro del quale sono scaturite sempre scelte e proposte costruttive strategiche. Un grazie di cuore al direttore generale, il dottor Giuseppe Capozzolo, per la sua preziosa collaborazione ed esempio di competenza e professionalità e al Collegio dei Revisori per il lavoro che svolgono. I loro rilievi e le loro osservazioni sono sempre di grande aiuto per il raggiungimento degli obiettivi dell'azienda. Non posso non ringraziare personalmente tutti i dipendenti ed operai che lavorano con grande spirito di servizio e senso del dovere e dei quali apprezzo sempre di più, giorno dopo giorno, il grande attaccamento che hanno per l'azienda e per la città di Agropoli. Il mio impegno in questi anni è stato un continuo e sano appassionarsi alla cosa pubblica cittadina e alla vita aziendale con la consapevolezza delle responsabilità che tale ruolo comporta, anche per la contingenza del periodo di crisi che stiamo attraversando. Cercherò con umiltà di ricoprire l'incarico con spirito costruttivo e di confronto, certo che il percorso virtuoso da tempo intrapreso dall'azienda possa portare i frutti già piantati a germogliare e crescere robusti così da migliorare ulteriormente il livello dei servizi offerti alla città e ai cittadini. Approfitto per fare gli auguri di buon lavoro ai consiglieri Giancarlo Sant'Angelo e Eleonora Guglielmotti che mi affiancheranno per il prossimo triennio in consiglio di amministrazione.